Ansia da public speaking Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video In questo video, Dario in cucina è il format Nuovo format Dario in cucina che parla di cose In questo video parliamo di ansia da public speaking Ansia del parlare in pubblico Non so se lo sapevate, ma parlare in pubblico è una delle paure più grandi Si dice che sia una delle tre paure più importanti e più diffuse al mondo E parlare in pubblico ci mette soggezione perché poi in realtà ha a che vedere con la nostra reputazione Dobbiamo ricollegarci un attimo a quello che ci dice Harari in Libro Sapiens Ci dice che un tempo eravamo organizzati in piccoli villaggi, piccole comunità umane E ciò che contava più di qualsiasi altra cosa era la nostra reputazione Perché se improvvisamente la nostra reputazione veniva a calare Noi venivamo espulsi da quelli che erano i villaggi E molto spesso finivamo per poter sopravvivere veramente pochi giorni Questa cosa, per quanto non viviamo più in villaggi Ma viviamo in città talmente grandi dove potremmo reinventare noi stessi la nostra vita E la nostra persona infinite volte Questa cosa ci è rimasta a livello biologico Siamo terrorizzati dalla possibilità che in qualche modo la nostra reputazione venga meno Più o meno consapevolmente E mentre faccio caffè parliamo un po' di ansia da public speaking Come sopravvivere all'ansia da public speaking Per coloro che hanno l'attenzione di un pesce rosso Vi basterà sapere che è impossibile eliminare la paura del public speaking Soprattutto se non avete mai fatto public speaking Molti di voi saranno qua a guardare questo video Perché sanno che prima o poi si troveranno nella condizione di dover fare un public speaking Oppure, ancora peggio, sono autolesionisti E sanno che vogliono fare public speaking Vogliono diventare di public speaker Oppure alcuni hanno già sentito qualche altro mio video In cui dico che oggi giorno tutti, volendo o non volendo Facciamo public speaking Perché quando facciamo una story, un video su YouTube Questo è public speaking Non è una comunicazione one to one È una comunicazione one to many E allora oggi giorno tutti siamo public speaker Ed è nostra responsabilità migliorare la nostra capacità di fare public speaking Quindi dicevo, per chi ha l'attenzione di un pesce rosso Sappiate che l'ansia del public speaking non si può eliminare Soprattutto se è la prima volta e ancora non l'avete fatto Ma se mi seguite e guardate questo video Vi renderete conto che non vi dirò le solite cose scontate E troverrete conforto da ciò che vi sto per dire Sulla base di quello che vi ho appena raccontato Dovete sapere che quando ci troviamo su un palcoscenico Davanti ad altre persone si attiva in noi questa risposta biologica Di cui vi ho accennato poco fa Che si chiama fight or flight Ossia combatti o scappa È una cosa che accade dentro di noi Nel momento in cui ci troviamo solitamente davanti a una tigre nella foresta Siamo programmati per reagire ai pericoli Con questo tipo di reazione in cui la nostra amigdala Che è una sorta di ghiandola, il nostro sensore di pericolo Che prende il sopravvento sulla nostra razionalità E ci fa comportare in maniera in cui non vorremmo comportarci Ad esempio farci arrossire nel caso dei public speaking Farci tremare le gambe Avere il desiderio di scappare dal palcoscenico O scappare dal posto in cui ci troviamo E non farci più di turno Questo è quello che solitamente capita la prima volta che si fa un public speaking Si ha paura ed è assolutamente normale Se guardate il primo public speaking di Steve Jobs Se guardate i primi public speaking della maggior parte dei migliori public speaker al mondo Beh, probabilmente parlavano in maniera molto diversa Da come parlano oggi E sapete perché? Perché avevano paura Nel momento in cui abbiamo paura Parliamo in maniera molto diversa Ora, fate un esercizio Andate sul mio canale YouTube Se non vi siete già iscritti iscrivetevi Andate a vedere i miei video E li ordinate per i meno recenti Quindi dai meno recenti ai più recenti E vi guardate i primi video che ho fatto Parlavo male Mi mangiavo le parole Magari parlavo troppo veloce Anche oggigiorno parlo molto veloce Però il punto è questo Sono cambiato Il mio modo di parlare è cambiato Ed è stato forse anche una delle cose più importanti Che sono riuscito ad ottenere nella mia vita Alla pari con tutte le altre cose che faccio In termini di business, di impresa, eccetera Saper comunicare penso che sia una Delle cose più importanti in assoluto Perché noi quando comunichiamo Costruiamo, realizziamo Sapete qual è la cosa più importante Per far sì che un'idea diventi realtà Molti direbbero l'execution La capacità di realizzare La capacità di fare In realtà tutto parte dalla comunicazione Perché nel momento in cui abbiamo un'idea La possiamo rendere possibile Possiamo realizzarla Possiamo renderla realtà Solamente se siamo in grado di far sì Che questa idea venga accettata Condivisa da altre persone Quando ho un'idea E vedo una ragazza che è la ragazza dei miei sogni E voglio corteggiarla Quando ho un'idea di business E voglio presentarla a un investitore E fare quindi un pitch O quando magari ho trovato il lavoro dei miei sogni E voglio farmi assumere Devo essere maledettamente bravo a parlare E a comunicare E quel tipo di comunicazione carismatica Che ci permette in qualche modo Di raggiungere questi risultati La si ottiene allenandoci E così è esattamente anche nel public speaking Ecco quindi che se c'è una cosa Che vorrei ottenere con questo video È farti avere un cambio di prospettiva Non dovresti essere scontento Impaurito Terrorizzato Questo sì È possibile che rimanga Fino al giorno in cui farai il tuo public speaking Ma dovresti anche essere entusiasta Perché stai iniziando un percorso Che ti porterà a cambiare A migliorare A migliorare come individuo E a 360 gradi In tutta quella che è la tua sfera personale e professionale Perché una volta che imparerai a fare public speaking Avrai la capacità di essere più carismatico Avrai la capacità di comunicare meglio con gli altri Avrai la capacità di essere più incisivo Avrai la capacità di comprendere come ragiona il tuo pubblico E quali sono le cose che hanno più efficacia sul tuo pubblico Sono cose che ti porti indietro per tutta la vita E che miglioreranno i tuoi output I tuoi risultati nella maggior parte dei contesti Che ti troverai ad affrontare Fino adesso ti ho spiegato perché fa paura fare public speaking E perché è maledittamente importante fare public speaking nella vita E quindi sì certo Da un certo punto di vista sarai ansioso, impaurito eccetera Dall'altro punto di vista però sarai qua A pensare cavolo mica male, cioè è un percorso che non tutti affrontano Perché non tutti hanno il coraggio E comunque non tutti hanno l'opportunità E questo è il terzo ragionamento Se ti invitano a parlare in pubblico Significa che quello è un riconoscimento Dovresti essere fiero, dovresti essere orgoglioso In un mondo dove tutti non hanno il tempo per ascoltare il prossimo Dove basta uno swipe per passare alla prossima comunicazione Alla prossima persona Il fatto che qualcuno ti inviti a parlare Il fatto che ci sia qualcuno lì per ascoltare te È un grande riconoscimento È un grande raggiungimento che è riservato a pochi E tu fai parte di questi pochi Ecco quindi che una delle cose più importanti che ho realizzato Parlando davanti a centinaia e poi migliaia di persone Anche al nostro evento Marketers World È che a un certo punto l'ansia del public speaking Svanisce o comunque diventa molto più piccola Perché ti rendi conto che la gente è lì per te E che quello è il tuo momento E non c'è niente di più bello Che poter avere l'attenzione degli altri E avere la possibilità di dire la propria Senza che nessuno ti interrompa Quando ho dovuto sostenere il mio primo public speaking Ricordo che me la facevo veramente addosso Ero terrorizzato E ho iniziato a essere terrorizzato Già da molto prima che arrivasse il giorno del public speaking Un mese prima Già tremavo all'idea Di quel giorno in cui mi sarei trovato su un palco Che poi non era chissà quale palco Era una saletta davanti a 200 persone Però ero veramente terrorizzato E ricordo che a un certo punto ero talmente nervoso E stressato Che mi è iniziata a venire questa sorta di infiammazione della lingua Sono andato in farmacia C'era un farmacista molto simpatico E mi fa E si vede che sei stressato E io gli ho detto Eh sì, dovevo fare un public speaking Ah, guarda caso Non è un caso che la lingua si infiammi Proprio prima di un public speaking Evidentemente sei tu che mandi troppa paura Alla tua mente E il tuo corpo si rifiuta di parlare in pubblico Che sia vero o no Perché uno può credere o non credere a queste cose Il punto è proprio questo Ero talmente stressato Che mi sono vissuto veramente male Il mese antecedente Alla mia prima esperienza di public speaking Che poi in realtà è andata benissimo Dobbiamo quindi prepararci all'idea Che non è per forza Che la nostra prima esperienza debba andare male Anzi In questo video ti darò anche qualche consiglio Per far sì che la tua prima esperienza possa andare bene E non sarà uno di quei classici consigli Che ti danno tipo Sali sul palco E immagini al tuo pubblico in mutande Perché tanto alla fine sono tutti umani Perché queste cose non servono a niente Perché la verità è che la prima volta che si sale su un palco Ed è la prima volta che si fa public speaking Difficilmente si ha la capacità di pensare E questo dipende da alcuni fattori Che adesso ti spiego Che ti aiuteranno a controllare un attimo La tua presenza sul palco Perché solitamente quello che succede Quando ci troviamo su un palcoscenico È che si attiva questa fight or flight response Quindi ci sentiamo improvvisamente sopraffatti dalle emozioni Da questa paura Da questa amigdala che attiva la nostra parte irrazionale È quello che viene di solito Le gambe che tremano Ma non solo La voce che corre Perché la verità è che non vediamo l'ora di uscire da quel palco Di scendere dal palco Abbiamo fretta di finire Di tornare nella nostra zona sicura E molto spesso quando si parla Anch'io in questo momento Ogni tanto faccio degli errori E poi Paolo che è quel con me E mi sta riprendendo Taglia questi errori Capita spesso, non capita sempre Perché più lo faccio Più mi alleno e meno sbaglio Però capita di sbagliare Perché si sbaglia? Perché molto spesso andiamo veloci E più andiamo veloci nel parlare Meno tempo abbiamo per il pensare Per controllare la situazione E se andiamo veloci Spesso ci mangiamo le parole Se ci mangiamo le parole E non ci spichiamo Facciamo un errore Poi andiamo nel panico Perché iniziamo a pensare al giudizio altrui Una macchina fotografica Mi può terrorizzare Paolo Bacchi Ma al di là di quello Posso tagliare l'errore Quando sono su un palco Non me lo posso perdonare Potrei Ma non lo faccio Perché ho questa sensazione Di essere sul patibolo Dobbiamo invece rallentare Dobbiamo possedere la situazione E questo dipende molto Dalla consapevolezza Dalla tranquillità Allora se invece di darti Dei consigli di public speaking Dovessi darti dei consigli di vita Impara a gestire lo stress Impara a gestire l'emozione Prima di fare public speaking Nel periodo antecedente Cerco di aumentare Il numero di sedute di meditazione Per esempio che faccio Per rilassare il mio corpo Quando salgo su un palco La prima cosa Invece di parlare velocemente Di partire subito È prendere posizione E respirare Perché respirare è importante Perché ti rilassa E soprattutto Prima di salire sul palco Perché attenzione Poi non è che uno si agita Quando sale sul palco Uno è già agitato Quando sale sul palco Prima di salire sul palco Ciò che cerco di fare È tutt'altro Che controllare il mio discorso E cercare di ricordarmi Ciò che devo dire È in realtà Far sentire alla mia mente Che sono tranquillo Perché ricordi Quello che dicevamo prima Più la mia mente è agitata Più la mia amigdala Prenderà il sopravvento Più sarò irrazionale Più paura proverò Meno sarà performante La mia capacità Di parlare in pubblico Quindi è più importante Non ripassare Che comunico alla mia mente Che sono agitato Paura di non conoscere e sapere Ma rallentare Rilassare il mio corpo E la mia mente Prima di salire su un palco Quello che faccio È parlare con le persone a me care Cerco di fare qualcosa Che farei comunque Per comunicare alla mia mente Che non sta per succedere Niente di particolare Mi rilasso Respiro Respiro molto lentamente Molto profondamente Cerco di rallentare Il battito cardiaco Probabilmente se stai Per avere un'esperienza Di public speaking Qualsiasi Potrebbe essere anche una live Su Facebook E tra poco torneremo Su questo argomento Potresti già avere l'ansia E il battito accelerato A sentire le mie parole A immaginarti Su quel palco No? Perché capita tutto Io ricordo le prime volte Che studiavo il public speaking E leggevo questi libri E la gente mi diceva Sta tranquillo Andrà tutto bene Immagina il pubblico In mutande E diamine non è così Perché mentre stai leggendo Quelle cose Già pensi a come sarà E già sei agitato Per questo dico che La pratica ad esempio Della meditazione È molto utile Perché prima dell'evento Già un mese prima Inizi a portare Il tuo corpo Il tuo stress Il tuo livello di stress La tua mente A un rilassamento basale Quindi medio Molto più basso A quello che avresti di solito Così quando arriverai All'evento Anche se si alza di un po' È comunque più basso Rispetto a quello Che ti verrebbe O che sarebbe nel caso In cui ad esempio Non hai meditato Non hai allenato La tua mente A gestire lo stress meglio Devi mandare Questi input Al tuo cervello Prima di continuare Con il prossimo consiglio Ti invito Se non l'hai già fatto A iscriverti al canale Qui su questo canale Trovi tanti altri video Che ti serviranno Che troverai utili Sull'argomento Sulla meditazione Sul public speaking Sulla comunicazione Sul marketing E magari ti aiuteranno Ad affrontare questo momento O la tua crescita Professionale e personale Nel mondo del public speaking Ora voglio darti Due consigli Molto importanti Secondo me E molto utili Per preparare Il tuo primo public speaking O i tuoi primi public speaking Tre consigli Non due Tre Il primo è Allenati Purtroppo la verità È che soprattutto Le prime volte È meglio sovralenarsi Per un semplice motivo La nostra mente Il nostro corpo Ha una memoria Molto forte Anche muscolare E infatti Se devo raccontarvi Un aneddoto Questo aneddoto È proprio il fatto Che il mio primo public speaking È andato bene Ma il secondo public speaking È andato malissimo E la differenza Tra questi due È che nel primo Mi sono sovralenato Mi sono sovra preparato Ho studiato come un matto E non è che ho ripetuto Papagallo Ho ripetuto il mio discorso Nel senso che avevo una traccia Avevo un'idea Di quello che volevo dire Ogni giorno mi mettevo lì E immaginavo di avere Degli amici davanti E lo ripetevo Il mio secondo public speaking È stato diverso Ho sofferto talmente Tanto il primo Che il secondo Ho deciso di Non prepararmi Perché avevo letto Su un libro Che alla fine Se sai di cosa parli Vai lì E lo racconti Ma proprio l'idea Di non essermi preparato Ha preso il sopravvento Poco prima di salire sul palco E quella Impreparazione Percepita Non reale Perché quelle cose Le sapevo Ne parlo sempre Ne parlo su internet Ne parlavo sui video Su YouTube Quella impreparazione Mi ha colto la sprovvista Mi ha generato ansia E quindi In qualche modo Ho incespicato Durante il percorso E il Blanc Cosiddetto Blanc Ti trovi lì E dici Che cavolo dovevo dire No? Hai avuto quel momento Di panico E dopo il panico C'è quel momento Di bianco totale Che anche se è la cosa Più semplice del mondo Che vuoi dire Non te la ricordi E lì è solo peggio Perché poi arrangi Senti questa paura Che incespichi di nuovo Non ti viene in mente Cosa vuoi dire Sono arrivato anche a dire Scusate Ho detto scusate al pubblico Quindi quello è proprio Il peggio che può avvenire Ma anche se è successo Oggigiorno è come qua Ai fornelli A fare un video Mentre faccio il caffè A parlare in pubblico Davanti alla videocamera E comunque ogni anno Continuo a fare public speaking Ai miei eventi O agli eventi in cui mi invitano Quindi anche se si tocca al fondo È possibile risalire E avere successo nel public speaking Al contrario La prima volta Mi sono sovrappreparato E sovrappreparandomi Ripetendo quel discorso Anche 5-10 volte al giorno Per un mese Che è un'infinità Ed è esagerato È palesemente esagerato Però che cosa è successo? Che la mia mente Il mio corpo Hanno memorizzato Quel discorso Nella maniera più Automatica in assoluto E quando mi sono ritrovato A parlare in pubblico Anche se ero terrorizzato Anche se le gambe Mi tremavano Di tanto in tanto Senza che dovesse muovere un dito Diciamo che il discorso Ha preso il sopravvento Cioè a un certo punto Mi rendevo conto Che stavo facendo discorso Nell'esatto identico modo In cui l'avevo preparato a casa Quindi questa memoria muscolare Del come mi muovo Questa memoria mentale Di ciò che dico rimane Soprattutto se esageriamo Quindi se hai veramente tanta paura Quello che ti consiglio è Sovra preparati Perché questo ti aiuterà Veramente tanto Un altro consiglio Che mi sento di dare oggi Riguarda le nuove tecnologie Un tempo le persone Non avevano la possibilità Di allenarsi a casa A fare public speaking O meglio forse Lo potevano fare Con la propria famiglia Invece oggigiorno Una cosa che si può fare È fare public speaking Da casa Per preparare Il proprio public speaking Reale Che faremo magari su un palco Come lo si fa Il public speaking da casa? Lo si fa così come Lo sto facendo io Un video su youtube O ancora meglio Un vero public speaking da casa Ossia una live su instagram O su facebook O su tiktok Queste piattaforme Non saranno esattamente Come un palcoscenico Ma ci consentono Di fare una comunicazione One to many Che comunque ci genera ansia Che comunque ci impaurisce Perché le prime volte Che facciamo una live Su facebook O su instagram Siamo terrorizzati O comunque siamo imbarazzati E la nostra comunicazione Non è straordinariamente efficace Ma facendolo Rifacendolo Ri-ri-ri-facendolo Miglioriamo Migliora la nostra comunicazione E migliora soprattutto Quella gestione dello stress Di cui parlavamo poco fa E quindi capite È molto potente questa cosa Se ci alleniamo da casa A fare public speaking online Quando arriveremo su un palco Sarà diverso E non posso promettervi Che la vostra ansia Non ci sarà Sarà lì ad accompagnarvi Ma sarà un'ansia ben diversa Rispetto all'idea Di non aver mai parlato A più di dieci persone alla volta L'avete fatto in un contesto digitale Ma l'avete fatto Ed è andata Ogni feedback positivo Che la nostra mente Recepisce E registra Riguardo a qualcosa Che ci fa paura Ci aiuta a diminuire Quella paura E quella paura A un certo punto Più diventiamo bravi Si trasforma in un'altra cosa Che si chiama ansia da prestazione Nessuno dei migliori public speaker Al mondo Non ha ansia O non prova ansia Prima di salire sul palco E questa cosa è positiva Perché chi sale su un palco E non ha ansia Performa peggio E ci sono un sacco di studi al riguardo Bisogna avere una lieve ansia Un lieve stress positivo Che è lo stress delle performance È lo stesso stress Che spinge lo sportivo A dare il meglio di sé Quell'ansia ce l'avete Perché ci tenete Quell'ansia ce l'hai Perché vuoi fare meglio Vuoi arrivare lì Ed essere sicuro di fare bene E questa cosa È una cosa positiva Non negativa Quindi anche Un lieve livello di ansia Lo devi abbracciare Non devi pensare Ah cavolo sono in ansia Allora mi viene ancora più ansia E questo solitamente È un feedback negativo Se noi non percepiamo Che l'ansia è positiva Quando sentiamo l'ansia Ci rendiamo conto Che quell'ansia ci fa paura E quell'ansia diventa ancora più forte E prende sopravvento E ora passiamo al terzo consiglio È un consiglio molto importante Per coloro che vogliono superare L'ansia da public speaking Ma soprattutto limitarla Perché abbiamo detto Che superarla del tutto È impossibile Quindi non sentirti inadeguato Se il giorno del tuo public speaking Proverai dell'ansia Questo terzo consiglio È molto semplice Ma è molto importante E qual è questo consiglio? Questo consiglio è Parla di ciò che conosci Molto bene Non parlare di cose Che non conosci Non voler far la figura Dell'esperto a tutti i costi Non voler sovraccaricare Quel contenuto Con dati Statistiche Tecnologie O argomentazioni Troppo difficili da raccontare Parla di ciò che sai Perché parlare di ciò che sai Comunica credibilità Comunica autorevolezza E comunica empatia Noi empatizziamo Con colui che è carismatico Ma colui che è carismatico È carismatico Perché sa di ciò che parla E si sente quanto più sicuro Sentirsi sicuri È qualcosa che a livello inconscio Viene percepito Noi non rimaniamo in realtà Esterefatti dalla complessità O dalla difficoltà O dal livello contenutistico Noi rimaniamo in realtà Impressionati Dalla capacità del prossimo Di passarci un contenuto Di condividere con noi un'idea E nel farlo Nella misura in cui Le nostre emozioni aumentano Quindi nel momento in cui Ascoltiamo qualcuno Che è capace di farci emozionare Di farci riflettere Di ispirarci Di intrattenerci Di darci utilità E di farci percepire Un possibile cambiamento Nella nostra vita O nel nostro punto di vista Quindi quando ti dico Parla di ciò che sai Intendo parlare soprattutto Di qualcosa che è Correlabile Che è in qualche modo Legato alla tua vita Alle tue esperienze Porta in ballo esperienze Porta in ballo Racconti della tua vita Della tua vita professionale Se si tratta di un public speaking Che ha a che vedere Con la tua professione Con la tua figura Professionale o imprenditoriale Se sei un imprenditore Il caffè sta salendo Facciamo un piccolo recap Di quello che abbiamo detto Ti ho raccontato del perché È maleditamente importante Oggigiorno parlare in pubblico Perché viene l'ansia Del parlare in pubblico Perché si ha paura Del parlare in pubblico E quanto questo sia importante In realtà Perché è sintomo In qualche modo Di stress positivo Di volontà Di migliorare Le proprie performance Poi siamo passati Ad alcuni consigli fondamentali Il primo consiglio Che abbiamo detto È l'importanza Di sovralenarsi Di allenarsi tanto Il secondo consiglio Che abbiamo detto È di provare ad allenarsi Anche online Prima dell'evento Quindi fare live Fare alcune live In cui parliamo Magari degli stessi argomenti In cui ci alleniamo Ad essere più carismatici Nella comunicazione E il terzo consiglio È quello di preparare Un discorso In cui ti rimballo Le tue esperienze In cui parli Di ciò che sai Di ciò che ti appassiona Di ciò che realmente Poi alla fine Parleresti anche con i tuoi amici O con i tuoi colleghi Grazie mille Ci vediamo nel prossimo video Se il video ti è piaciuto Iscriviti al canale Metti like Fai clic sulla campanella E ci vediamo Nel prossimo episodio E ci vediamo nel prossimo video